Il vaccino contro il Covid si potrà somministrare insieme a quello antinfluenzale. Dopo il via libera del Ministero della Salute, oggi anche la Regione Marche ha dato notizie sulla doppia somministrazione in occasione dell'avvio della campagna vaccinale contro l'influenza. In quest'ultimo caso, come spiega l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, il vaccino sarà somministrato su base volontaria alle persone con età pari o superiore a 65 anni, con particolare riferimento alla categoria over 75. Dai primi di novembre, poi, il vaccino sarà disponibile per tutte le altre categorie, i residenti di strutture per anziani e lungodegenza, le persone ad alto rischio di complicanze o di ricoveri ospedalieri correlati all'influenza. La vaccinazione è consigliata anche per familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze, per gli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo ed altre categorie di lavoratori, compresi gli operatori sanitari. Come l'anno scorso, a causa del permanere dell'emergenza Covid-19, per facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d'età di maggiore rischio di malattia grave, il vaccino anti-influenzale è raccomandato, spiega la Regione, anche nella fascia d'età 60-64 anni e nei bambini nella fascia d'età 6 mesi-6 anni. Il siero può essere somministrato dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Inoltre, i servizi igiene e sanità pubblica collaboreranno alle attività e il vaccino potrà essere somministrato anche negli hub in concomitanza con la vaccinazione anti-Covid. È infatti possibile somministrarli entrambi nella stessa seduta vaccinale.